Il giudice ha deciso di darci una ditata di andare in avanti, aprire un po' il libro e andare a leggerlo. Slitta tutto al prossimo 30 maggio per il conferimento dell'incarico al perito per le trascrizioni delle intercettazioni. Era infatti in programma per questa mattina davanti al GUP di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli l'udienza preliminare per la tragica fine di Martina Rossi, la studentessa Ligure che morì durante una vacanza a Palma de Mallorca il 3 agosto 2011, precipitando dal sesto piano di un hotel, ma si è trattato di una falsa partenza per lo sciopero degli avvocati. Era già stata anticipata da parte della Procura una richiesta di trascrizione dei brogliacci delle intercettazioni, il che significa rendere utilizzabili quelli che ad oggi sono solamente brogliacci, quindi in previsione processuale, per poter utilizzare ciò che determinate persone si sono dette a telefono, per telefono o in una intercettazione ambientale occorre trascriverle. Il GUP dovrà decidere se accettare o meno il rinvio a giudizio chiesto dal Procuratore della Repubblica Roberto Rossi per Luca Alessandro, due 25 anni e retini che devono difendersi dall'accusa di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata a violenza sessuale. Quando avremo la completezza delle indagini valuteremo se fare riti alternativi, potremmo fare anche riti alternativi tipo riti abbreviati. Erano comunque presenti questa mattina ad Arezzo i genitori di Martina Bruno e Franca Rossi, che da anni attendono l'inizio del procedimento e che non hanno mai creduto all'ipotesi di suicidio. Ecco, una ragazza così dicendo che va a divertirsi, va a fare festa e poi questi ti dicono ma guarda è andata a questo piano, è venuta là perché si voleva buttare giù dalla finestra senza calzone. Ma dai, non ci crede nessuno.